Sigmund Freud, studi su listeria e altri scritti, 1886-1895, capitolo secondo, 3. Miss Lucy R., trentenne, Freud. Alla fine del 1892, un amico collega mi mandò una giovane che era in trattamento da lui per riniti purulente cronicamente ricorrenti. Come risultò in seguito, la causa dei suoi ostinati disturbi era una carie dell'etmoide. Recentemente la paziente si era ancora rivolta a lui per nuovi sintomi che l'esperto medico non poteva più attribuire ad affezione locale. Essa aveva completamente perduto la percezione olfattiva ed era perseguitata quasi ininterrottamente da una o due impressioni olfattive soggettive. Le risentiva come molto penose. Era inoltre depressa, stanca, si lamentava di avere la testa pesante, di scarso appetito e incapacità di lavorare. La giovane donna che viveva come istitutrice nella casa di un direttore di fabbrica nella periferia di Vienna veniva a trovarmi di tanto in tanto durante il mio orario di visite. Era inglese, di costituzione delicata, povera di pigmento, in buona salute prima dell'affezione al naso. Le sue prime comunicazioni confermarono le indicazioni del medico. Soffriva di depressione e stanchezza, era tormentata da impressioni olfattive soggettive, presentava come sintomi isterici, un'analgesia generale abbastanza evidente, con sensibilità tattile e intatta. I campi visivi ad un esame sommario con la mano non risultavano ridotti. L'interno del naso era completamente analgesico e privo di riflessi. I contatti venivano percepiti. La percezione di quest'organo sensorio era abolita tanto per stimoli specifici quanto per altri stimoli, ammoniaca, acido acetico. Il catarro nasale purulento era proprio allora in una fase di miglioramento. Nel primo tentativo di rendere intellegibile questo caso, le sensazioni olfattive soggettive, che erano allucinazioni ricorrenti, furono sottoposte all'interpretazione dei sintomi isterici permanenti. La sua depressione era forse l'affetto relativo al trauma e doveva potersi trovare un fatto vissuto nel quale questi odori, ora diventati soggettivi, fossero stati oggettivi. Questo fatto vissuto doveva essere il trauma di cui come simboli ricorrevano nella memoria le sensazioni olfattive. Forse sarebbe stato più giusto considerare le allucinazioni olfattive ricorrenti insieme con la depressione che le accompagnava quali equivalenti dell'attacco isterico. Il carattere delle allucinazioni ricorrenti, infatti, le rende inadatte al ruolo di sintomi permanenti. In questo caso, in stadio rudimentale, la distinzione era difficile. Era tuttavia assolutamente necessario che le sensazioni olfattive soggettive presentassero una specializzazione che potesse corrispondere alla loro provenienza da un oggetto reale ben determinato. Questa aspettativa fu ben presto soddisfatta. Alla mia domanda su quale odore la perseguitasse maggiormente, ricevetti la risposta, come di dolce e bruciato. Non mi restava quindi che supporre che veramente l'odore di dolce e bruciato fosse quello che si era verificato nel fatto traumatico realmente vissuto. Che sensazioni olfattive vengano assunte come simboli mnestici di traumi è in vero abbastanza insolito. Era tuttavia facile trovare un motivo per questa scelta. La paziente era affetta da rinite purulenta, per cui il naso e le sue sensazioni attiravano in modo preeminente la sua attenzione. Delle condizioni di vita della paziente sapevo soltanto che nella casa nella quale essa accudiva due bambine mancava la madre, morta alcuni anni prima per una grave malattia acuta. Decisi quindi di prendere l'odore di dolce e bruciato come punto di partenza per l'analisi. Voglio raccontare la storia di quest'analisi così come essa avrebbe potuto svolgersi in condizioni favorevoli. Nella realtà dei fatti ciò che avrebbe dovuto costituire una seduta unica si svolgeva in più sedute, perché la paziente poteva venire a trovarmi soltanto durante il mio orario di visite, quando le potevo dedicare poco tempo, e inoltre un unico argomento di conversazione si protraeva per più di una settimana, in quanto i suoi doveri non le permettevano di fare tante volte la lunga strada dalla fabbrica al mio studio. Interrompevamo quindi il colloquio a metà, per riprenderne il filo la volta successiva. Miss Lucy R. non divenne sonnambula quando cercai di metterla in ipnosi. Rinunciai quindi al sonnambulismo e compii tutta l'analisi con lei in uno stato che di fatto si distingueva assai poco da quello normale. Su questo punto della tecnica impiegata, debbo essere più preciso. Quando nell'anno 1889 frequentai le cliniche di Nancy, sentii dire al vecchio maestro dell'ipnosi, il dottor Liebaud, certo se possedessimo i mezzi per rendere sonnambulo chiunque, il metodo curativo ipnotico sarebbe il più potente di tutti. Nella clinica di Bernheim sembrava quasi che un'arte si fatta esistesse veramente e che la si potesse apprendere da Bernheim. Non appena però cercai di esercitare quest'arte sui miei malati personali, mi accorsi che, perlomeno alle mie forze, si ponevano a tale riguardo limiti ben angusti e che quando un paziente non diventava sonnambulo dopo tre tentativi al massimo, io non possedevo più alcun mezzo per renderlo tale. La percentuale dei sonnambuli rimase la mia esperienza di gran lunga al di sotto di quella indicata da Bernheim. Così mi trovai davanti a un bivio, o abbandonare il metodo catartico, nella maggior parte dei casi che sembravano richiederlo, o fare il tentativo di esercitare quel metodo al di fuori del sonnambulismo, in caso di leggero o anche dubbio influenzamento ipnotico. Mi parve indifferente determinare a quale grado di ipnosi, secondo una delle scale stabilite al riguardo, corrispondesse lo stato non sonnambulico raggiunto, poiché ogni forma di accessibilità suggestiva è comunque indipendente dalle altre, mentre la realizzazione della catalessi di movimenti automatici e simili non pregiudica in alcun modo la facilità di ridestare ricordi dimenticati che a me serviva. Perdetti ben presto l'abitudine di effettuare le prove destinate a stabilire il grado dell'ipnosi, perché in tutta una serie di casi, esse attivavano la resistenza dei pazienti guastandomi la fiducia che mi era necessaria per il lavoro psichico più importante. Del resto mi ero presto stancato dopo l'assicurazione e il comando, lei dormirà, dorma, di sentirmi sempre obiettare nei casi più leggeri di ipnosi, ma signor dottore io non sto dormendo, ed essere poi costretto a tirar fuori l'imbarazzante distinzione, già, ma io non intendo il sonno comune, intendo l'ipnosi. Vede, lei è ipnotizzato, non riesce più ad aprire gli occhi, eccetera. Del resto non è affatto necessario che lei dorma, e cose simili. Sono ben persuaso che molti dei miei colleghi in psicoterapia sappiano trarsi d'impiccio in queste difficoltà più abilmente di me, e quindi potranno anche procedere diversamente. Trovo però che, se ci si deve attendere con tale frequenza di trovarsi in imbarazzo per l'uso di una data parola, va al meglio evitare tanto la parola quanto l'imbarazzo. Quando dunque il primo tentativo non produceva sonambulismo o un grado di ipnosi con ben chiari mutamenti somatici, io apparentemente rinunciavo all'ipnosi, chiedevo soltanto concentrazione e ordinavo la posizione supina e la chiusura volontaria degli occhi quale semplice mezzo per raggiungere questa concentrazione. In tal modo, forse, con poca fatica potevo anche ottenere il più profondo grado di ipnosi raggiungibile in quel caso particolare. Rinunciando al sonambulismo, poteva però darsi che io mi privassi di una condizione pregiudiziale senza la quale il metodo catartico sembrava inapplicabile. Esso era infatti basato sul presupposto che i pazienti, nello stato di coscienza modificato, disponessero di ricordi e riconoscessero connessioni apparentemente non esistenti nel loro stato di coscienza normale. Mancando l'allargamento sonambulico della memoria, doveva mancare persino la possibilità di stabilire una determinazione causale, quale è presentata dal malato al medico non come cosa lui nota. Proprio i ricordi patogeni, come abbiamo detto nella comunicazione preliminare, sono del tutto assenti dalla memoria dei malati nel loro stato psichico ordinario o sono presenti soltanto in forma assai sommaria. Da questa nuova difficoltà mi salvò il ricordo di aver visto Bernheim stesso fornire la prova che i ricordi del sonambulismo sono soltanto apparentemente dimenticati nella veglia e che si possono ridestare mediante un leggero ammonimento, dato insieme a una pressione della mano a indicare un diverso stato di coscienza. Egli aveva, ad esempio, provocato in una sonnambula l'allucinazione negativa che egli non fosse più presente e aveva poi cercato di farsi notare da lei in vario modo e anche bruscamente, ma non c'era riuscito. Dopo che la paziente fu svegliata, le chiese che cosa egli avesse fatto con lei mentre essa riteneva che egli non ci fosse. Stupita, essa rispose di non saper nulla, ma egli non cedette, sostenne che si sarebbe ricordata di tutto, le mise la mano sulla fronte perché si rammentasse, ed ecco che essa finì col narrare tutto ciò che nello stato sonnambulico pretendeva di non aver percepito e di cui allo stato di veglia pretendeva di non aver saputo. Questo esperimento sorprendente e istruttivo fu il mio modello. Decisi di procedere partendo dall'ipnosi che la mia paziente sapesse effettivamente tutto ciò che aveva una qualche importanza patogena e che occorresse soltanto costringerla a darne comunicazione. Quando perciò accadeva che alla domanda da quando ha questo sintomo oppure da dove proviene questo, ricevevo la risposta questo davvero non lo so, agivo nel modo seguente, mettevo la mano sulla fronte della paziente o prendevo il suo capo fra le mie due mani affermando, le verrà ora in mente sotto la pressione della mia mano. Nel momento in cui cesserò di premere, lei vedrà qualche cosa davanti a sé o le passerà qualcosa per la testa e questa cosa lei la deve afferrare. È proprio ciò che noi cerchiamo. Ebbene che cosa ha visto o che cosa le è passato per la mente. Quando applicai questo procedimento per le prime volte e non fu con Miss Lucy R, fui stupito io stesso che mi venisse comunicato ciò che mi occorreva e posso dire che da allora in poi il procedimento è quasi sempre riuscito. Mi ha sempre mostrato la strada che la mia indagine doveva seguire, permettendomi di portare a termine ogni analisi di questa specie senza sonnambulismo. A poco a poco divenni così ardito che ai pazienti che mi rispondevano non vedo nulla oppure non mi è passato niente per la mente, dicevo che era impossibile. Certamente si era presentata la cosa giusta, soltanto non credevano che lo fosse o l'avevano scartata. Potevo ripetere il procedimento quante volte volessero e ogni volta avrebbero veduto la stessa cosa. Effettivamente finivo ogni volta per aver ragione. I pazienti non avevano ancora imparato a lasciare da parte le loro critiche, avevano scartato il ricordo che era emerso o l'idea affacciatasi perché la ritenevano inutilizzabile, qualche cosa di estraneo che si era inserito e dopo che l'avevano comunicata risultava ogni volta che si trattava della cosa giusta. Talvolta, quando riuscivo a ottenere la comunicazione dopo la terza o quarta pressione, il paziente mi diceva «sì, questo l'ho saputo fin dalla prima volta, ma proprio questo non lo volevo dire», oppure «speravo che non fosse questo». Questo modo di allargare la coscienza apparentemente ristretta era certo faticoso molto più, almeno, dell'interrogazione nel sonnambulismo, ma esso mi rendeva comunque indipendente dal sonnambulismo e mi permise di comprendere i motivi che spesso sono decisivi per la dimenticanza di ricordi. Posso affermare che questo dimenticare è spesso intenzionale e desiderato, ed esso è sempre solo apparentemente riuscito. Forse ancora più strano mi è parso che numeri e date apparentemente dimenticati da gran tempo possono essere riportati alla mente con un procedimento simile, dimostrando così un'insospettata fedeltà della memoria. La limitazione nella scelta che si ha nella ricerca di numeri e date permette infatti di far uso della legge, nota dalla dottrina dell'affasia, per cui il riconoscere è una prestazione della memoria più semplice che non il rammentare spontaneamente. Davanti al paziente che non sa ricordarsi in quale anno, mese e giorno un determinato evento si sia verificato, si enumerano gli anni di cui si può trattare, i 12 nomi dei mesi e i 31 numeri dei giorni del mese, assicurandolo che al numero o al nome giusto i suoi occhi gli si apriranno da soli o che egli sentirà quale numero sia quello giusto. Nella gran maggioranza dei casi i pazienti si decidono davvero per una data determinata e abbastanza spesso, come nel caso della signora Cecil M, si è potuto dimostrare in base ad annotazioni esistenti che la data riconosciuta era esatta. Altre volte, con altri pazienti, è risultato che la data così trovata era sicura in base al contesto dei fatti ricordati. Ad esempio, la paziente osservava, dopo che le si presentava la data ricavata con il conteggio, ma questo è il compleanno del babbo, continuando poi, sì, certamente, proprio perché era il compleanno del babbo mi aspettavo l'evento di cui abbiamo parlato. Posso solo sfiorare qui questo argomento. La conclusione che ho trattato da tutte queste osservazioni è che le esperienze patogeneticamente importanti sono fedelmente ritenute dalla memoria insieme con tutte le loro circostanze accessorie, anche quando sembrano dimenticate e quando al malato manca la capacità di rammentarsene. Dopo questa lunga ma inevitabile digressione, ritorno alla storia di Miss Lucy R. Essa dunque, nelle esperienze di ipnosi, non diventava sonnambula, ma rimaneva tranquillamente sdraiata in stato di lieve influenzamento suggestivo con gli occhi stabilmente chiusi, i tratti del volto un po' rigidi, immobile. È stato circa due mesi fa, due giorni prima del mio compleanno. Ero con le bambine nella stanza di vita d'aula e stavo giocando con loro a cucinare, quando fu portata una lettera che il postino aveva appena recapitato. Riconobbi dal timbro postale e dalla calligrafia che la lettera era di mia mamma, da Glasgow, e volevo aprirla e leggerla, ma le bambine si precipitarono su di me e mi strapparono la lettera di mano, gridando, no, non devi leggere adesso e certamente per il tuo compleanno la conserveremo noi per te. Mentre le bambine giocavano così attorno a me, si diffuse improvvisamente un odore intenso. Le bambine avevano dimenticato sul fuoco il dolce che stavano cucinando e quello si era bruciato. Da allora questo odore mi perseguita e in complesso sempre presente diventa più forte quando sono agitata. Vede questa scena chiaramente davanti a sé. Sì, proprio così come l'ho vissuta, potrei toccarla. Che cosa poteva dunque agitarla tanto in questo fatto? Mi commuoveva la tenerezza delle bambine verso di me. Non era sempre così? Sì, ma proprio mentre ricevevo la lettera della mamma. Non comprendo in qual modo la tenerezza delle piccole e la lettera della madre potessero costituire un contrasto, cui lei sembra accennare, e che avevo l'intenzione di andare a trovare mia madre e non avevo il cuore di lasciare quelle care bambine. Mi parli di sua madre. Forse è molto sola e le ha chiesto di andarla a trovare. O era malata in quell'epoca e lei aspettava sue notizie. No, è malaticcia, ma non proprio malata. Ha con sé una persona di compagnia. Perché allora doveva lasciare le bambine? Non ce la facevo più a stare in quella casa. Pare che la governante, la cuoca e la francese credessero che io mi desse delle arie per la mia posizione. Esse si sono equalizzate in un piccolo intrigo contro di me, calunniandomi in tutti i modi col nonno delle bambine, e io non ho trovato nei due uomini l'aiuto che attendevo quando mi sono lamentata con loro. Allora ho offerto al signor direttore, il padre delle bambine, le mie dimissioni. Egli mi rispose molto gentilmente, consigliandomi di riflettere ancora per due settimane prima di comunicargli la mia decisione definitiva. Ero allora proprio in quel periodo di incertezze. Credevo di lasciare la casa, ma poi sono rimasta. C'era qualcosa di speciale che la vincolasse alle bambine oltre alla loro tenerezza verso di lei? Sì, avevo promesso sul letto di morti alla loro madre, che era una lontana parente della mia, che mi sarei dedicata alle piccole con tutte le mie forze, che non le avrei mai abbandonate e che avrei fatto loro da madre. A questa promessa venivo meno licenziandomi. Così dunque l'analisi della sensazione olfattiva soggettiva sembrava compiuta. Essa era già stata effettivamente una sensazione oggettiva, intimamente associata ad un evento, una piccola scena in cui si erano contrapposti affetti contrastanti. Il rincrescimento di lasciare queste bambine e le mortificazioni che pure la sollecitavano a prendere quella decisione. La lettera della madre le aveva ovviamente ricordato i motivi della decisione, dato che essa intendeva recarsi lì presso la madre. Il conflitto degli affetti aveva elevato a trauma questo momento e come simbolo del trauma le era rimasta la sensazione olfattiva che vi era collegata. Occorreva ancora la spiegazione del fatto per cui di tutte le percezioni sensorie di quella scena essa avesse scelto come simbolo proprio quell'odore. Ero già però preparato a addurre come spiegazione la sua malattia nasale cronica. Alla mia domanda diretta disse anche che proprio in quell'epoca soffriva di nuovo di un raffreddore così forte da impedirle quasi di sentire odori. Nel suo stato di agitazione aveva però percepito l'odore del dolce bruciato che era riuscito a superare la nosmia di natura organica. Non mi accontentai però del chiarimento così raggiunto. Pareva sì tutto abbastanza plausibile, ma mi mancava qualche cosa, un motivo sufficiente per cui questa serie di eccitamenti e questo contrasto di affetti avevano dovuto portare proprio all'isteria. Perché il tutto non era rimasto sul terreno della vita psichica normale? In altre parole, d'onde proveniva la giustificazione della conversione qui in atto? Perché essa non si ricordava della scena stessa anziché della sensazione ad essa collegata che lei aveva preferito quale simbolo del ricordo? Tali domande avrebbero potuto essere inessenziali e superflue se si fosse trattato di un'isterica consumata, cui il meccanismo della conversione è abituale. Ma questa ragazza aveva contratto l'isteria soltanto in occasione di questo trauma, o perlomeno di questa piccola dolorosa faccenda. Ora, io sapevo già dall'analisi di casi consimili che quando l'isteria rappresenta un'acquisizione nuova è indispensabile una condizione psichica, e cioè che una rappresentazione sia intenzionalmente rimossa dalla coscienza restando esclusa dall'elaborazione associativa. In questa rimozione intenzionale io ravviso anche il motivo della conversione, parziale o totale che sia, della somma di eccitamento. La somma di eccitamento esclusa dall'associazione psichica trova così tanto più facilmente la via erronea per una innervazione somatica. Causa della rimozione stessa può essere soltanto un'impressione spiacevole, l'incompatibilità dell'unica idea da rimuovere con l'insieme delle rappresentazioni dominanti dell'io. La rappresentazione rimossa però si vendica diventando patogena. Dal fatto che Miss Lucy R fosse caduta nella conversione isterica proprio in quel momento, trassi quindi la conclusione che fra i presupposti di quel trauma ve ne dovesse essere uno che essa intenzionalmente voleva lasciare nell'oscurità, sforzandosi di dimenticarlo. Considerando insieme anche la tenerezza per le bimbe e la suscettibilità verso le altre persone della casa, tutto ciò ammetteva una sola interpretazione. Ebbi il coraggio di comunicare questa interpretazione alla paziente. Le dissi, non credo che queste siano tutte le ragioni del suo sentimento verso le due bambine. Suppongo piuttosto che lei, forse senza rendersene conto, sia innamorata del suo padrone, del direttore, e nutra in sé la speranza di poter occupare effettivamente il posto della madre. Aggiunga che lei è diventata tanto sensibile nei riguardi della servitù con la quale ha vissuto insieme in pace per anni. Lei teme che questa gente si accorga in qualche modo delle sue speranze e la schernisca per questo. La sua risposta fu come sempre laconica. Sì, credo che sia così. Se però sapeva di amare il direttore, perché non me l'ha detto? Ma io non lo sapevo, o meglio non lo volevo sapere. Volevo togliermelo dalla testa, non pensarci mai più, e credo anche di esserci riuscita in quest'ultimo tempo. Perché non voleva confessare a se stessa questo sentimento? Si vergognava di amare un uomo. Oh no, non sono irragionevolmente pudibonda, e poi non sia irresponsabile dei propri sentimenti. Mi era penoso soltanto perché si tratta del padrone di cui sono al servizio, nella casa in cui vivo, e rispetto al quale non mi sento completamente indipendente come verso un altro. E poi perché sono una ragazza povera, mentre egli è un uomo ricco di famiglia distinta. Mi si prenderebbe in giro se lo si potesse sospettare. Ora non trovo più resistenza per la spiegazione dell'origine di questa simpatia. Essa narra di aver vissuto nella casa i primi anni semplicemente accudendo alle proprie mansioni, senza concepire desideri impossibili. Una volta però il signore, serio, occupatissimo e in genere sempre riservato verso di lei, cominciò con lei una conversazione sulle esigenze dell'educazione dei bambini. Divenne più tenero e cordiale del solito, le disse come egli contasse su di lei per la cura delle sue orfanelle, e intanto la guardava in modo particolare. In quel momento cominciò ad amarlo e a compiacersi tra sé, volentieri della lieta speranza che aveva concepito da quella conversazione. Soltanto quando poi non accade più nulla, quando contro la sua attesa e la sua speranza non vi fu un'altra ora di intimo scambio di idee, essa aveva deciso di togliersi la cosa dalla mente. Essa mi dà ragione quando le osservo che quel suo sguardo durante la conversazione era probabilmente dedicato alla memoria della moglie defunta, e si rende perfettamente conto che il suo sentimento è assolutamente senza speranze. Mi attendevo da questo colloquio, un cambiamento radicale nel suo stato, ma all'inizio non fu così. Continuava a essere depressa e di malumore. Una cura idropatica che le avevo contemporaneamente prescritta la rinfrancava un po' al mattino. L'odore del dolce bruciato non era scomparso completamente, era solo diventato più raro e più debole. Veniva, come essa diceva, soltanto quando era molto agitata. La persistenza di questo simbolo omnestico mi fece sospettare che esso, oltre alla scena principale, avesse assunto la rappresentazione di molti piccoli traumi secondari. E così indagamo su tutto ciò che poteva avere connessione con la scena del dolce bruciato, ripassando il tema degli attriti domestici dal contegno del nonno, eccetera. Così, la sensazione dell'odore di bruciaticcio andò sempre più scomparendo. In tale periodo si ebbe anche un'interruzione del trattamento, causata dalla ripresa della malattia al naso, che portò allora alla scoperta delle carie dell'etmoide. Quando ritornò, mi riferì pure che il Natale le aveva portato numerosi doni da parte dei due signori e perfino della servitù, come se tutti fossero desiderosi di riconciliarsi con lei e di cancellare in lei il ricordo dei contrasti dei mesi scorsi. Questa evidente cortesia, però, l'aveva lasciata indifferente. Quando la interpellai ancora una volta sull'odore del dolce bruciato, ricevetti la risposta che era quasi scomparso, ma che invece la tormentava un altro odore, simile, come di fumo di sigaro. Un odore che c'era stato certamente anche prima, ma come coperto dall'odore del dolce. Adesso era emerso da solo. Non ero molto soddisfatto dell'esito della mia terapia. Si era dunque verificato ciò che si rimprovera sempre alla terapia, meramente sintomatica. Si era tolto un sintomo solo perché un nuovo sintomo potesse prenderne il posto. Mi accinse tuttavia subito a eliminare analiticamente anche questo nuovo simbolo omnestico. Questa volta, però, non sapeva ad onde provenisse la sensazione olfattiva soggettiva, in quale importante occasione, cioè, fosse stata una sensazione oggettiva. Da noi si fuma continuamente, disse, e non so proprio se l'odore che sento indichi un'occasione particolare. Insistetti allora perché tentasse di ricordare sotto la pressione della mia mano. Ho già detto che i suoi ricordi avevano una vivacità plastica che era una visiva. Infatti, in base alle mie insistenze, emerse in lei un'immagine, dapprima incerta e solo frammentaria. Era la sala da pranzo della casa, dove attende con le bambine il ritorno dei signori dalla fabbrica per la colazione. Adesso siamo tutti seduti attorno al tavolo, i signori, la francese, la governante, le bambine ed io, ma questo è come tutti i giorni. Ebbene, continui a guardare l'immagine, si svilupperà e diverrà più specifica. Sì, c'è un ospite, il capo contabile, un vecchio signore che ama le bambine proprio come nipoti, ma viene così spesso a pranzo che anche qui non c'è nulla di particolare. Abbia pazienza e continui a guardare l'immagine, succederà certamente qualcosa. Non succede niente, ci alziamo da tavola, le bambine si devono congedare e salgono con noi, come tutti i giorni al secondo piano. Ebbene, eppure è un'occasione particolare, riconosco la scena. Mentre le bambine si congedano, il capo contabile le vuole baciare. Il padrone salta su ed urla addirittura, non si baciano le bambine. Sento una fitta al cuore e dato che i signori stanno già fumando, mi resta nella memoria il fumo dei sigari. Questa fu dunque la seconda scena più profonda che aveva agito come trauma lasciando dietro di sé un simbolo omnestico. Ma donde proveniva l'efficacia di questa scena? Le domandai. Che cosa avviene prima nel tempo, questa scena o quell'altra del dolce bruciato? L'ultima scena è la prima, ha preceduto l'altra di quasi due mesi. Perché ha sentito una fitta al cuore per questo scatto del padre? L'osservazione non era poi diretta contro di lei. Ma non era giusto strapazzare così un vecchio signore, che è un caro amico e che per di più era ospite. Queste cose si possono dire anche in modo pacato. Allora l'ha ferita soltanto il modo brusco del suo padrone. Si è forse vergognata per lui oppure ha pensato, si è potuto essere tanto violento per una simile piccolezza con un vecchio amico e ospite. Come sarebbe con me, poi, se io fossi sua moglie? No, non è questo. Ma era però per il suo modo violento. Sì, per il fatto del baciare le bambine. È una cosa che non gli è mai andata. Ed ora, di nuovo sotto la pressione della mia mano, emerge il ricordo di una scena ancora più remota, che aveva costituito il vero trauma agente e che aveva conferito effetto traumatico anche alla scena con il capo contabile. Era accaduto, anche questa volta, alcuni mesi prima, che fosse venuta in visita una signora amica, la quale, nel congedarsi, aveva baciato le due bambine sulla bocca. Il padre che assisteva si controllò e non disse nulla alla signora, ma dopo la sua partenza la sua ira si era sfogata sulla povera istitutrice. Le aveva dichiarato che la rendeva responsabile se qualcuno baciava le bambine sulla bocca, che era suo compito non permetterlo e che, lasciandolo fare a essa, era venuta meno ai suoi doveri. Se la cosa si fosse ripetuta, egli avrebbe affidato l'educazione delle bambine ad altre mani. Era il periodo in cui essa si credeva ancora amata e in cui attendeva una ripetizione del primo intimo colloquio. Questa scena aveva spezzato le sue speranze, si era detta, se per una piccolezza simile nella quale per di più sono del tutto innocente può aggredirmi e minacciarmi in questo modo, vuol dire che mi sono sbagliata e che egli non ha mai avuto per me un sentimento di tenerezza. Questo gli avrebbe fatto avere maggiori riguardi. Evidentemente è stato il ricordo di questa scena penosa che le si era presentata quando il capo contabile aveva fatto il gesto di baciare le bambine e ne era stato sgridato dal padre. Quando Miss Lucy venne nuovamente a trovarmi due giorni dopo quest'ultima analisi, dovetti domandarle che cosa le fosse accaduto di bello. Era come trasformata, sorrideva e teneva la testa alta. Per un momento pensai di aver malgrado tutto interpretato male la situazione e che l'istitutrice delle bambine era diventata la sposa del direttore, ma essa respinse le mie ipotesi. Niente è accaduto. È che lei non mi conosce, mi ha vista soltanto malata e depressa. In genere sono sempre così serena. Quando mi sono svegliata ieri mattina, l'incubo era scomparso e da allora sto bene. E che ne pensa allora delle sue speranze nella casa? Sono completamente lucida, so di non averne e non sarò per questo infelice. E andrà ora d'accordo con le persone della casa. Credo che tutto sia di peso principalmente dalla mia suscettibilità. E amo ancora il direttore. Certamente lo amo, ma questo non mi fa più soffrire. Uno può ben pensare e sentir per conto suo quello che vuole. Le esaminai allora il naso e trovai quasi completamente ripristinata la sensibilità al dolore e ai riflessi. Distingueva anche gli odori, ma in modo incerto, e solo quando erano piuttosto intensi. Devo però lasciare in sospeso la questione della misura in cui la malattia del naso abbia avuto parte in questa anosmia. Tutta la cura era durata nove settimane. Quattro mesi dopo incontrai per caso la paziente in una delle nostre villeggiature. Era serena e mi confermò che continuava a star bene. Epigresi. Non vorrei sottovalutare il caso clinico qui narrato, anche se si tratta solo di una piccola isteria di lieve entità con pochi sintomi. Ma mi sembra istruttivo il fatto che anche una malattia di questo genere, modesta come nevrosi, ha bisogno di prodursi di tante premesse psichiche e, ad una più attenta considerazione, sono tentato di presentare questa storia clinica come modello di un tipo particolare di isteria, quella che anche una persona non ereditariamente tratta può contrarre in base a determinate esperienze idonee. Con ciò, naturalmente, non parlo di un'isteria che sia indipendente da qualsiasi disposizione. Una tale isteria probabilmente non esiste, ma noi parliamo di una tale specie di disposizione soltanto quando la persona è già diventata isterica, in quanto prima non vi è nulla che l'attesti. La disposizione neuropatica, come la si intende di solito, è un'altra cosa. Essa è già determinabile prima della malattia in base all'entità della tare ereditaria o alla somma delle anomalie psichiche individuali. Per quel che mi risulta, in Miss Lucy R questi due fattori non erano affatto riscontrabili. Si può perciò chiamare la sua un'isteria acquisita, ed essa non presuppone altro che la capacità, probabilmente assai diffusa, di contrarre l'isteria, capacità che siamo ancora lungi dal saper caratterizzare. In casi simili, l'accento principale non può che cadere sulla natura del trauma, naturalmente in combinazione con la reazione della persona al trauma stesso. Condizione indispensabile per l'acquisizione dell'isteria sembra essere il fatto che si determini un rapporto di incompatibilità fra l'io e una rappresentazione che a esso si presenti. Spero di poter mostrare in altro luogo come varie turbe nevrotiche siano originate dai diversi procedimenti che questo io impiega per liberarsi da tale incompatibilità. Il modo isterico della difesa, per il quale appunto si richiede una particolare attitudine, sta dunque nella conversione dell'eccitamento in un'innervazione corporea e il vantaggio di questo è che la rappresentazione incompatibile risulta rimossa dalla coscienza dell'io. In cambio, la coscienza dell'io contiene la reminescenza corporea prodottasi con la conversione, nel nostro caso le sensazioni olfattive soggettive, e soffre per l'affetto che più o meno chiaramente si collega appunto a queste reminescenze. La situazione così creatasi non è più d'ora in poi modificabile, perché mediante la rimozione e la conversione è eliminata la contraddizione che avrebbe spinto a liquidare l'affetto. Così, il meccanismo che produce l'isteria da un lato corrisponde a un atto di viltà morale, e dall'altro risulta un congegno protettivo a disposizione dell'io. Vi sono parecchi casi per i quali si deve ammettere che la difesa contro l'incremento di eccitamento, mediante la produzione di isteria, è stata effettivamente in qualche dato momento la cosa più opportuna. Più spesso, naturalmente, si deve invece concludere che una maggiore misura di coraggio morale avrebbe costituito un vantaggio per l'individuo. Il momento veramente traumatico, quindi, è quello nel quale la contraddizione si impone all'io e l'io stesso decreta il bando alla rappresentazione contraddicente. Con tale bando, quella rappresentazione non viene però annullata, ma soltanto sospinta nell'inconscio. Quando questo processo si produce per la prima volta, si forma con ciò un nucleo e centro di cristallizzazione per la formazione di un gruppo psichico distinto dall'io, attorno al quale si raccoglie successivamente tutto ciò che avrebbe per presupposto l'accettazione della rappresentazione contraddicente. La scissione della coscienza in tali casi di isteria acquisita è quindi voluta, intenzionale o perlomeno promossa per lo più da un atto volontaristico. Di fatto accade una cosa diversa da quella che l'individuo si propone. Egli vorrebbe eliminare una rappresentazione come se non si fosse mai prodotta, ma riesce soltanto a isolarla psichicamente. Nella storia della nostra paziente, il momento traumatico corrisponde a quella scenata che il direttore le fece per i baci alle bambine. Questa scenata, per il momento, rimane però senza effetto visibile. Forse cominciarono con essa la depressione e la suscettibilità, ma io non ne so nulla. I sintomi isterici sono insorti solo in seguito a momenti che si possono chiamare ausiliari e che si potrebbero caratterizzare dicendo che in essi due gruppi psichici temporaneamente separati confluiscono come nella coscienza dilatata del sonnambulismo. Il primo di questi momenti nei quali si è prodotta la conversione è stata per Miss Lucy R. la scena a tavola, quando il capo contabile voleva baciare le bambine. Qui è intervenuto anche il ricordo traumatico ed essa si è comportata come se non si fosse liberata di tutto ciò che si riferiva alla sua inclinazione per il proprio padrone. In altri casi clinici, questi diversi fattori coincidono. La conversione avviene immediatamente sotto l'effetto del trauma. Il secondo momento ausiliario riproduce abbastanza precisamente il meccanismo del primo. Una forte impressione ristabilisce temporaneamente l'unità della coscienza e la conversione procede per la medesima via che le si era dischiusa la prima volta. È interessante il fatto che il sintomo insorto come secondo ha coperto il primo, cosicché quest'ultimo non viene percepito chiaramente fino a che non sia stato eliminato l'altro. Mi sembra notevole anche l'inversione dell'ordine di successione che anche l'analisi è costretta a seguire. In tutta una serie di casi mi è accaduta una cosa analoga. I sintomi sorti più tardi coprivano quelli di data più antica e solo quello a cui l'analisi perveniva per ultimo conteneva la chiave di tutto. La terapia è consistita qui nel costringere il gruppo psichico separato a riunificarsi con la coscienza dell'io. Il successo, strano a dirsi, non si è prodotto parallelamente al lavoro di analisi. Solo quando l'ultimo elemento fu liquidato si è avuta improvvisa la guarigione.